Allora, l'emozione ce l'ho sempre quando suono queste musiche, anche perché ero bambino quando è uscito alla strada di Fellini e andavo al cinema con mia mamma, mio fratello quattro volte alla settimana e vedere la strada, sentire la musica dalla strada mi dà sempre una certa emozione perché ho iniziato pensando a quella colonna sonora, a mia vita musicale, capito? Quindi l'emozione rimane, rimane anche il giorno dei cent'anni di Fellini, che sono i cent'anni, mia madre è romagnola, è di Imola, allora quindi è la storia della mia famiglia, quindi c'è sempre qualcosa in più rispetto ad altre storie. Il teatro è bellissimo, sono rimasto sorpreso anche io, questi due grandi foglie d'entrata, il primo e il secondo, una passeggiata e poi il teatro così armonico come sonorità, come tutto, mi ha dato già entrando, la prima cosa che faccio quando entro in un teatro è battere le mani per sentire il ritorno del suono e non dico che sia perfetto, ma l'ho sentito perfetto, quindi questo è già un punto in più nell'esecuzione, poi con l'orchestra che ho di 50 elementi, al pianoforte, poi hai questi palchi che ti arrivano addosso con queste luci, credo che sarà una grande emozione, proprio un'emozione sensoriale, è come andare in un grande ristorante e ti mangi delle tagliatelle come si deve, è la stessa cosa. Grazie.